Caino e Abele cari amici, Caino e Abele nella interpretazione di Massimo Recalcati. Massimo Recalcati è uno dei più noti o forse il più noto psicoanalista italiano oggi vivente. Questo è un video, vedete? E' 4 giugno 2021, solo 151 visualizzazioni, c'è da meravigliarsi. E' una relazione molto bella questa di Massimo Recalcati, che sia chiaro, una relazione molto bella, molto bella. Bravo Massimo Recalcati. Allora, qua però c'è da evidenziare quello che diceva Friedrich Nietzsche, cioè che non esistono fatti ma solo interpretazioni. E' vero Massimo Recalcati, tu lo conosci bene Friedrich Nietzsche. Non esistono fatti ma solo interpretazioni, solo interpretazioni. Tu hai dato delle ottime interpretazioni al fratricilio, a questo evento con il quale inizia il Vecchio Testamento. Caino uccide Abele. Caino uccide Abele. Allora, poiché tu hai dato le tue interpretazioni, e poi dopo io invito tutti voi, cari amici, ad ascoltarvela questa relazione, questa conferenza di Massimo Recalcati. Dura 37-38 minuti. Io l'ho ascoltata nella sua interezza perché ho voluto sentire fino in fondo le parole di Massimo Recalcati. Allora, non esistono fatti ma solo interpretazioni, diceva Friedrich Nietzsche. E Massimo Recalcati ha dato le sue belle psicoanalitiche interpretazioni, e Serafino Massoni dà le proprie interpretazioni. Io vorrei dire che il mito biblico, il mito biblico di Adamo, Eva, Caino, Abele, Liden, il peccato originale, eccetera, è il mito più bello che sia mai stato scritto. In innumerevoli video io ho dato le mie interpretazioni. Relativamente a Caino e Abele, Massimo Recalcati dice tante cose interessanti, che sia chiaro. Però non cita i Midrashim, i Midrashim ebraici, i Midrashim ebraici. In questi Midrashim è scritto la sua invenzione, cioè si riferisce a Caino, leggo testualmente da un Midrashim, la sua invenzione dei pesi e delle misure mise termine alla semplicità degli uomini. Caino fu anche il primo che pose pietre divisorie intorno ai campi, che costruì città cintate di mura e costrinse la gente a stabilirsi. E qua il mito, questo mito ebraico, rappresenta sinteticamente il passaggio dal matriarcato al padriarcato. Perché chi è Abele? Abele è il pastore, il nomade. Chi è Caino? Chi è Caino? Caino è il contadino, è l'agricoltore, è lo stanziale, è la città. Abele è la campagna, Caino è la città e la stessa cosa viene poi con Romolo e Remo. La stessa cosa, è vero Massimo dei Calcati che la stessa cosa viene con Romolo e Remo, i due fratelli, che Romolo uccideremo. Bene, allora il mito descrive sinteticamente il passaggio dal matriarcato al padriarcato, cioè la vittoria del padriarcato nei confronti del matriarcato. E come si caratterizza il padriarcato? Il padriarcato si caratterizza proprio per il fatto che, c'è scritto qua, la sua invenzione dei pesi e delle misure mise termine alla semplicità degli uomini. Caino fu anche il primo che pose pietre di visorie intorno ai campi, che costruì città cintate di mura e costrinse le genti a stabilirsi. E questo andrebbe precisato. Caino, sembra che Caino sia stato, diciamo così, l'inventore della matematica, dei numeri, dei pesi, delle misure. Sì, sì, il passaggio dal matriarcato al padriarcato, che in breve è il passaggio da una società priva di proprietà privata ad una società con proprietà privata. Ma sentiamo un esordio delle parole di Massimo Recalcati. Freud sintetizza questa origine scandalosa della storia dell'uomo, che appunto inizia dal fratricidio, con una formula che troviamo nei suoi scritti ripetuta più volte, in cui Freud dice che l'odio è più antico dell'amore. L'odio viene prima dell'amore. In che senso l'odio viene prima dell'amore? In che senso Caino viene prima dell'amore per il prossimo? Il fratricidio viene prima della fratellanza? In che senso dunque l'odio è più antico, più primitivo, più primordiale dell'amore? Beh, questa affermazione ci porta, come dire, a distinguere due anime fondamentali dell'uomo. Beh, qua ci fermiamo, qua ci fermiamo. E c'è da precisare che non è vero che l'odio viene prima dell'amore. È il contrario. È il contrario. Perché l'odio arriva con il patriarcato. Prima abbiamo il patriarcato. Prima abbiamo il patriarcato e dopo il patriarcato. Il passaggio, semmai, è dall'amore del patriarcato all'odio del patriarcato. E caro Massimo Ricalcati, tu vuoi tanto bene a Nietzsche. Anch'io voglio bene a Nietzsche. Dobbiamo accettare quello che dice Freddy Sinice. E non esistono fatti ma solo interpretazioni. Ah, poi ci sono tantissime altre interpretazioni. Questo grande, 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 grandissimo mito ebraico. Specialmente sul peccato originale. Ma qua mi fermo. Ah, il peccato originale, il peccato originale. Che bello, che bello, che bello. Va bene Massimo Ricalcati. Ti ho ascoltato con tanta simpatia. A te Massimo Ricalcati e a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.